Cari amici di Nome Canale, siamo qui oggi per esplorare il racconto emozionante di Diletta Leotta sulla sua esperienza di maternità e condivideremo dettagli intriganti sul suo speciale legame con la cantante Elodie. La conduttrice ci apre il suo cuore, raccontando la gioia di diventare mamma di Aria, nata nel giorno del suo 32 gradi compleanno il 16 agosto scorso. In un'intervista a Verissimo, Diletta rivela la profondità del rapporto con Elodie, definendola addirittura, la zia di mia figlia. La conduttrice svela come vivendo lontano dalla sua famiglia, le amicizie si trasformano in veri e propri legami familiari. Elodie, in particolare, è stata un pilastro durante la gravidanza di Diletta e ora si è trasformata in una meravigliosa zia per Aria. La solidarietà tra donne è al centro di questo toccante racconto. E Diletta sottolinea l'importanza di avere amiche come Elodie vicine in momenti così speciali. Una sorpresa arriva quando la di Patrizzi, con un videomessaggio, fa sciogliere Diletta in lacrime, rafforzando ancora di più il legame tra loro. Diletta condivide anche dettagli intimi sulla scelta del nome della figlia, Aria, e rivela il significato speciale del secondo nome, Rose. Il racconto tocca corde profonde mentre Diletta descrive il suo incredibile viaggio verso la maternità. Dall'iniziale shock alla gioia di tornare a casa con Aria tra le braccia. Il compagno di Diletta, Loris, ha svolto un ruolo fondamentale durante la gravidanza e continua ad essere un padre attento e amorevole. Diletta sottolinea la forza del loro legame e la gratitudine per avere accanto la persona giusta nel momento giusto. La Leotta condivide anche i suoi desideri per il futuro, manifestando la voglia di avere altri figli, ma sottolinea che il matrimonio con il calciatore può attendere. Attualmente, l'attenzione è tutta su Aria e sul godersi ogni prezioso istante con la piccola. Prima di concludere, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale per non perdere gli aggiornamenti su storie emozionanti come questa. Grazie per essere con noi. E ora, senza ulteriori indugi, immergiamoci nel cuore di questa straordinaria avventura di Diletta Leotta.